Novità importanti per gli utenti dell'ATNAS Garibaldi di Catania per rendere più agevoli e veloci due tra i più richiesti servizi in sanità, il ritiro dei referti del laboratorio analisi e quello del pagamento dell'etichetta sanitario. Già da oggi tutti i cittadini con un semplice click potranno accedere ai propri referti di laboratorio collegandosi ad un apposito indirizzo email. Il ritiro online è facoltativo, gratuito e potrà essere effettuato 24 ore su 24 utilizzando le credenziali di accesso che saranno rilasciate al momento dell'accettazione dell'esame. Per visualizzare, scaricare e stampare i propri referti sarà sufficiente avere a disposizione un qualsiasi dispositivo connesso alla rete senza doversi recare agli sportelli dell'azienda. Il referto telematico sarà disponibile per il ritiro solamente dopo aver registrato l'impegnativa presso gli sportelli aziendali e aver pagato l'eventuale ticket dovuto nei tempi indicati nel modulo di ritiro consegnato al momento del prelievo.